Io ho dormito sotto al campanile proprio con la tenda, quindi sentivo tutto, poi il campanile continuava a suonare, fino alle 10 e mezza ho continuato a suonare, ogni mezz'ora suonava e mi ha rotto i coglioni tutto il tempo e poi fino a mezzanotte c'erano i canti gregoriani che continuavano, non ho dormito nulla poi a un certo punto c'è anche stato vento della madonna e poi vabbè io mi sono spaventato con i miei stessi capelli perché adesso sono scemo e poi alle 6 del mattino, alle 5 adesso non mi ricordo, ha ripreso a suonare le campane, il campanile, allora ho dormito però me l'ho fatto una notte di merda Si riparte, si, si, purtroppo oggi ultimo giorno però oggi tappa molto importante oggi si arriva a casa mia, si arriva da Piategrasso esatto e mi raccomando ragazzi se fate il tuo cammino, passate da Piategrasso, se a me avvisate prima potrete avere anche voi in esclusiva l'adesivo del vichingo sulla vostra credenziale della via Francisca del Lucumaglia si, si e mi raccomando ragazzi Ennesima modifica al carrellino, mi hanno detto oggi ci abbiamo voglia, no, per niente e questo è quanto, cioè zero zaino, zero marsupio, zero di zero, però stiamo facendo il collaudo al carrellino con su praticamente due zaini pieni e il marsupio e al momento tiene, quindi top. Poi se si rompa a metà siamo fatti, esatto, se si rompa a metà ci mettiamo tutto sulle spalle e via, quindi ottimo. Grazie a tutti. Siamo al delirio totale. Ciavatta destra, ciavatta sinistra. E si va in giro in ciampatti. Siamo a casa, siamo ad Abbiategrasso. Ok, sono tutto bruciato, ho le mani bruciate, tra poco i piedi bruciati, la faccia bruciata. Ma dai ci manca poco, guarda in fondo a questa via c'è la stazione di Abbiategrasso, un pochettino più avanti c'è il posto in cui andremo a farci fare il timbro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, è da qua che finisce la nostra camminata, siamo arrivati, piazza Castella, adesso ci facciamo fare il timbro, poi andiamo a casa e niente. Per oggi abbiamo finito, poi le prossime due tappe le continueremo il mese prossimo. Fine mese. Fine mese. No, 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 no. Fine mese.